Antonio Inaurato, Presidente della Terza Commissione, ieri a fine dei lavori ha approvato un provvedimento importante per la nostra Regione, il testo unico per il commercio. La proposta della Giunta è stata approvata in Commissione dopo un lavoro importante, va sottolineato, con un tavolo tecnico con i dirigenti della Regione e con la condivisione e con la compartecipazione delle organizzazioni sindacali, di categoria, dei lavoratori, con la partecipazione dell'Anci, quindi una capacità di mettere in moto un mondo e di condividere una proposta che non è certamente sempre possibile, che ha portato a un risultato importante per un settore strategico per la economia regionale.